Il sopranaturale accompagna e affascina l'uomo fin dalla sua esistenza. L'irresistibile desiderio di entrare in contatto con l'ignoto, le varie entità, l'aldilà, i defunti, risponde alla richiesta del nostro subconscio di avere risposte concrete sull'effettiva esistenza di qualcosa dopo la nostra morte. Questa ricerca può comportare dei rischi ed è per questo che dovrebbe essere condotta con serietà e rispetto da persone competenti. Spesso succede che i vari rituali vengano considerati un semplice gioco, quasi un diversivo simpatico per una serata fra amici o addirittura una sorta di sfida all'ignoto. Tali atteggiamenti si evidenziano maggiormente nei ragazzi che, troppo frequentemente, si cimentano inconscientemente e aggiungerei stupidamente in esperimenti grossolani, quasi caserecci, incuranti delle possibili conseguenze. Queste sedute, in effetti, se sei fortunato, possono finire senza strascichi indesiderati. Altre volte, invece, possono sfociare in vere e proprie tragedie. Molto utilizzata per compiere questi rituali è la tavola Ouija, su cui vi sono scritte le lettere dell'alfabeto, i numeri da 0 a 10, le parole sì o no e goodbye. La si trova in vendita nel reparto giocattoli, in quanto ritenuta innocua. Durante la seduta, i partecipanti, poggiando il dito su un cursore mobile, cercano di evocare un'entità e, se questa si manifesta, il cursore inizia a muoversi, posizionandosi sulle lettere e sui numeri, rispondendo così alle domande formulate gli. Probabilmente, anche Stefania Gutierrez-Lazaro pensava, come tutti erano, che si tratta di ragazzi, che nulla le sarebbe successo se avesse usato la tavola per un uso personale, per arrivare ad un suo preciso scopo. Quello che vi racconterò è una storia di morte e presenze demoniache. Rappresenta uno dei casi di cronaca più terrificanti ed atroci di cui si abbia documentazione certe, non tanto per la crudeltà, ma per l'entità malefica che si trovarono ad affrontare la giovane ragazza e la sua famiglia. Tutto inizia nel 1990. Ci troviamo in Spagna, più precisamente a Vallecas. Lei, Stefania Gutierrez-Lazaro, è una studentessa di 18 anni. Depressa dopo aver perso il suo fidanzato in un incidente motociclistico. La perdita è incolmabile. La ragazza non riesce a superare il suo dolore. Vive il quotidiano con inerzia, non riuscendo a darsi pace. Il tempo passa e Stefania confida alla sua migliore amica la volontà di mettersi in contatto con il suo fidanzato. Assieme, con leggerezza e superficialità, si procurano una tavola ouija e, da inesperte, un po' a loro modo, cercano di mettersi in contatto con lo spirito del ragazzo. La seduta avviene di pomeriggio, in un'aula vuota della scuola che frequentano e, con loro stupore ed entusiasmo, dopo qualche tentativo, il puntatore inizia a muoversi. Purtroppo per loro scopriranno solo in seguito che effettivamente erano entrati in contatto con un'entità, ma non certo quella del ragazzo defunto. Quando vengono scoperte dall'insegnante, la seduta viene bruscamente interrotta, cosa che non si dovrebbe mai fare. L'insegnante rompe la tavola ouija, le ragazze vengono sgridate e mandate fuori dall'aula. Secondo alcune testimonianze, uno strano fumo uscì dal vetro rotto della tavola e, sfortunatamente, E Stefania lo inalò, senza però darne importanza. Per Stefania questo sarà solo l'inizio del suo peggiore incubo. Nei giorni successivi, in modo sempre più progressivo, la ragazza inizia ad avere convulsioni, e stati alteranti di coscienza durante le quali è ferma di vedere presenze oscure, fameliche, nella sua stanza, durante la notte, mentre sdraiata nel letto. Vede figure d'ombre dall'aspetto filiforme, con dita lunghe che la osservano. La indicano con il dito e le sussurrano. Vieni con noi. Tali esperienze potrebbero sembrare semplici visioni di una T-Ranger depressa, ma anche i genitori di E Stefania affermano che, effettivamente, durante la notte, odono provenire dalla stanza della ragazza rumori e passi, come un battere di piedi e voci. Inoltre confessano che questi strani suoni si odono anche di giorno, a qualsiasi ora. Aggiungono anche che hanno la sensazione di essere osservati dalle fessure delle porte, di avvertire delle presenze e muoversi nell'oscurità. Nei mesi successivi la ragazza visita molti centri di salute. Tutte le visite si concludono senza esito o di agno, si precisa. E Stefania, sempre più spaventata e logorata, sia fisicamente che mentalmente, si lascia letteralmente consumare. Sei mesi dopo, il gioco, con la tavola Ouija, entra in coma. Viene ricoverata nell'agosto del 1991 e morirà poco dopo, in circostanze strane. La vicenda sembrerebbe essere giunta alla fine. Purtroppo, la parte più arcana e spaventosa della storia, per la famiglia Lazaro, inizia ora. L'orrore non ha mai fine. Chi o qualunque cosa abbia evocato Stefania, sta di fatto che l'ha seguita dalla scuola fino a casa. Ed è proprio lì che si è insediata e che ora vi dimora. Per i genitori della ragazza, inizia ora il vero e proprio calvario. Subiscono sulla propria pelle un incubo ad occhi aperti. Dal giorno della prematura scomparsa della figlia, la situazione è andata via via addensandosi. Nella casa si respira un'aria pesante. Le presenze si fanno sempre più invadenti e violente. Le porte si aprono e chiudono all'improvviso, o sbattono in assenza di correnti d'aria. Si odono strani rumori e suoni. I mobili vengono ritrovati spostati, ma non di pochi centimetri, bensì anche di alcuni metri da dove erano posizionati. Alle pareti e sulle porte compaiono segni di graffi. I crocifissi improvvisamente cadono a terra senza una spiegazione razionale. Ombre oscure attraversano le stanze. La famiglia è terrorizzata, racconta tutto ai vicini, agli amici, ma nonostante questo continuo clima surreale davvero film horror, continuano ad abitare in quella casa, finché una notte i fenomeni diventano così violenti e ingestibili che la famiglia Witterrez fugge di casa, si riversa in mezzo alla strada e chiama la polizia. La polizia arriva sul posto alle 2.30 e gli agenti sono piuttosto scettici, decidono di entrare nell'abitazione. Appena entrati, si trovano immersi in un'atmosfera agghiacciante. I fenomeni descritti dalla famiglia Lazaro si presentano in tutta la loro violenza e devastazione. Non riescono a stare nell'abitazione neanche per un minuto e anche loro escono terrorizzati. Gli agenti non possono far altro che documentare i fatti rilevati durante il sopralluogo. La temperatura nelle stanze era bassissima, quasi si gelava. Si evidenzia la presenza di un'ombra altissima e filiforme nel corridoio. I crocifissi appesi alle pareti hanno iniziato a ruotare su se stessi o sono gettati a terra. I quadri si muovono senza che nessuno li tocchi. Si rilevano segni evidenti di graffi nelle porte e alle pareti. Probabilmente sono i segni relativi alle precedenti manifestazioni demoniache. L'immagine appesa al muro di Cristo, completamente lacerata in un poster, ha appesato una parete. Vi sono i segni di graffi simili a tre artigli. Sul tavolo, dove si trova il telefono, utilizzato dalla famiglia per chiamare le forze dell'ordine, vi è una sorta di saliva nera di origine sconosciuta. Il mattino seguente, la famiglia Witterrez, accompagnata dalla polizia, decide di rientrare in casa. Si ritroveranno davanti l'evento più traumatico e scioccante di tutta la loro vita. Vi è la cornice di una foto riversa sul pavimento e la foto di Estefania. Il suo viso è stato parzialmente strappato e bruciato, ma non dall'esterno, bensì dall'interno. Attraverso il vetro di protezione, e lei era ancora in quella casa. Questo è ciò che realmente è accaduto ad Estefania Gutierrez Lazaro e dalla sua famiglia. Un fatto che ha scosso tutta la comunità spagnola negli anni 90. Si può credere oppure no a questi fenomeni oscuri e paranormali. Non sempre, effettivamente. si manifestano o sono di così forte intensità e violenza. Il sovrannaturale esula dalle nostre spiegazioni scientifiche e razionali, ma non per questo significa che non esista. che non è un'attività. Ma non per questo significa che non è un'attività. E' un'attività. Ma non per questo significa che non è un'attività.